Un ragazzo che merita veramente tanto, è stato anche campione italiano Duatron Wisp, Angelucci Carlo, è stato veramente protagonista assoluto e un atleta della Sport Village San Salvo, nuotatore bravissimo, la Sport Village oggi ha veramente portato atleti di altissimo livello, ricordiamo anche il secondo che è uscito dal nuoto, sempre fa parte dello Sport Village, Argentieri, Mirko il secondo, faceva parte della staffetta, poi una staffetta un po' sfortunata che non è riuscita a primeggiare, però comunque lui nel nuoto è andato veramente alla grande. Sì, vediamo più avanti, ecco il primo assoluto, Angelucci Carlo, per lui gli applausi della... Meschini Mirko, anche lui campione italiano Duatron Wisp, in quel di Casalbordino l'anno scorso, bravissimo Mirko, e il terzo classificato di Clemente Giuseppe Aquarius Triathlon, premio anche per loro, ricordiamo che il triathlon comunque è una disciplina molto molto dura. Ancora un applauso per i primi tre classificati di questa prima edizione Triathlon Città di San Salvo, ricordiamo Angelucci Carlo, Pro Life, Notopin Team, Meschini Mirko, ASD, Miu Mario Pupilli, Di Clemente Giuseppe Aquarius Triathlon, veramente bravi, bravi, bravi complimenti a loro, è stata una manifestazione molto tirata a livello di tempi. Quindi, prima staffetta, Argentieri, Maroscia, Mannarino, foto. La seconda sono Dimeo, D'Ercole e Argentieri, la diamo a Lorenzo che poi... porterà, Dio. La terza staffetta, Colonna Francesco, Mini, Malandra, un applauso per loro, giocano in casa. Grazie. 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 Grazie.